Buongiorno a tutti, bentornati sul canale. Oggi ci troviamo sul parco naturale Fannes Sennes Braies. Abbiamo parcheggiato l'auto a rifugio Pederù che si trova nel territorio di San Vigilio di Marebbe in provincia di Bolzano e abbiamo deciso di andare a pranzo a rifugio Sennes. Stabattina nevicava, comunque l'incendiero non dovrebbe essere particolarmente impegnativo. Ci hanno detto che non è stato battuto per quello abbiamo messo le ciaspole e adesso partiamo. Bene. Forza, partiamo e vediamo come va. Ciao ciao. 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 Ragazzi, qui comincia a navigare, è venuta giù di neve. Comunque dai, tre quarti di camminata, è bella in piedi, ma su stata bellissima, quindi continuiamo e vediamo di arrivare al rifugio. Amici del canale, comincia a nevicare bene qua. Speriamo quando torniamo, andiamo a trovare la macchina, la macchina seppolta, dai, sono, eh, è già un'ora e un quarto che siamo partiti, speriamo che il tempo migliori un pochino, dai, continuiamo. Bene ragazzi, è un'ora e mezza della partenza, siamo arrivati a questo villaggio, il villaggio di Fodara Vedra, e adesso manca un'ora arrivare al rifugio Selles, ecco, guardate che spettacolo, questo villaggio è meraviglioso, un villaggio che dorme, sembra un villaggio delle fate, bellissimo, che dite? Stiamo percorrendo anche un pezzo di alta via numero uno, vedo, effettivamente, il villaggio delle fate è un cavolo, fa un freddo cane, ho messo anche la berretta, dai, forza, dai che ripartiamo, che è sediato ancora un'ora, è un posto romantico, ci diamo un bacino, un'ora e mezza ancora arrivare, un'ora arrivare al Senders, dai che andiamo, ciao, ciao, è una fame. Ciao a tutti! ecco qui la bella cartina che spiega il tutto noi volevamo partire dalla stua che è sopra cortina ma ci hanno detto che la strada non è stata pulita cioè il sentiero non è stato pulito quindi siamo partiti da Pederù eccolo qua zona di San Vigilio di Marebbe e abbiamo fatto il giro così ad anello passando per Fodara Vedra e adesso arriveremo a rifugio Senes dove mangeremo poi non so se abbiamo voglia possiamo salire anche a Munde Senes ma oggi non è una gran giornata per vedere il panorama e poi riletraeremo a Pederù ok dai continuiamo che andiamo a mangiare che gofam ciao ciao amici del canale missione compiuta il tempo da lupi oggi mi sa che il drone oggi lo facciamo volare è venuta sulla nebbia ecco la rifugio Senes però dai due ore e mezza e siamo usciti ad arrivarci dai ecco che c'è di bello è che ho visto che è aperto ma questo per sicurezza chiamate ma un rifugio che dovrebbe rimanere sempre aperto quindi adesso ragazzi fiesta si mangia si vive ma anche un paio di Marenda che non vede la rifugio Senes anche lei qualcosa e dopo ci vediamo per il ritorno ciao 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 amici del canale anche oggi il nostro trekking è finito ecco che siamo tornati al rifugio pederù è stato un bel giro chiaramente faticoso perché con la neve sempre più faticoso abbiamo messo circa quattro ore e mezza senza la pausa che adesso torniamo rifugio e poi torniamo a casa il video è stato bello diciamo che è una è un sentiero per tutti noi abbiamo fatto un piccolo giro anello abbiamo fatto un taglione là dove c'era il cartello con la cartina abbiamo preso il 7a però ecco adesso con la neve non è proprio semplice per chi non è esperto conviene fare tutto la strada come abbiamo fatto noi andata va bene dai spero che il video vi sia piaciuto e se vi è piaciuto come sempre vi chiedo di mettere un bel like un pollice di su e se vi va che tanto a voi non costa niente e mi aiuta a far crescere il canale iscrivetevi al canale in modo tale che rimanete anche aggiornati sui prossimi video ciao a tutti da domenico e più ciao 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 I'm holding the cards I know it's not easy I'm coming out The pressure is down Fresh air fix my ease And I'm heading back